Ciao, mi chiamo Stefano e vorrei condividere le mie impressioni sul corso di pianificazione finanziaria Fai da te, progetto più futuro finanziario. Io conoscevo già GP Invest in quanto sono iscritto all'Academy Risparmiatore già dall'anno scorso, quindi ho ritenuto subito che fosse un prodotto molto interessante. In effetti anche questo percorso si sviluppa in maniera molto simile all'Academy in quanto anche in questo caso ho trovato una notevole quantità di contenuti molto ben organizzati, dove viene spiegato tutto passo passo. Dai moduli iniziali dove c'è molta teoria fino ad arrivare ai moduli successivi dove dalla teoria si passa ai casi pratici. Mi viene in mente l'esempio delle assicurazioni per invalidità o premurienza, dove vengono spiegati tutti i vari casi. Posso dire che lo considero un corso adatto a tutti e che lo consiglio a coloro che si stanno chiedendo cosa succederà quando smetterà di lavorare e andrà in pensione.